Salve amici del Centro Meteo Italiano. Tra weekend e prossima settimana diversi passaggi instabili possibili sul Mediterraneo. Ecco allora gli ultimi aggiornamenti. Situazione sinottica che con l'avvicinarsi del weekend vedrà correnti via via più umide sul Mediterraneo centrale mentre il promontorio anticiclonico resterà defilato sulla penisola iberica. Blanda saccatura che all'inizio del weekend attraverserà l'Italia portando piogge e temporali sparsi prima al nord-est e poi al centro-sud. Tempo più stabile domenica ma attenzione che all'inizio della prossima settimana un altro cavetto d'onda punterà il Mediterraneo portando nuvolosità e qualche precipitazione. Nella seconda parte della settimana il modello GFS mostra un affondo più deciso con mal tempo mentre per l'europeo questo andrebbe molto più all'ovest non interessando l'Italia. Data l'incertezza seguite allora come sempre tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.